A differenza di tanti che mai riescono dall'isola dei famosi e cominciano a fare serate in discoteca Per altri motivi io vado nelle discoteche dove trovo i vecchi amici e sono contenta che questi vecchi amici siano rimasti soddisfatti del modo in cui mi sono comportata sull'isola Che tipo di esperienza è stata per te? Una grandissima esperienza perché io mi considero una persona intelligente e le persone intelligenti traggono profitto a livello personale da ogni esperienza che fanno Per cui per me aver sperimentato cosa significa la convivenza forzata, la fame, la pioggia, il vaglio del giudizio della gente, la resistenza fisica e psicologica Secondo me oggi mi ha fortificata, quindi oggi mi sento più forte e migliore di prima Ho scoperto di essere una persona con una grandissima fantasia e con grandissime risorse Che sempre quando ha un problema non si sottomette mai al problema ma reagisce e il problema lo affronta E poi ho scoperto una grande generosità, veramente sono una persona molto generosa perché anche quando avevo fame mi sarei mangiato il mondo intero Eppure quando trovavo qualcosa da mangiare e non me la mangiavo mai da sola, il mio primo pensiero era di dividerla con gli altri Questa cosa devo dire mi ha fatto molto piacere scoprirla di me Un ricordo piacevole, il più piacevole dell'isola e un ricordo invece sgradevole, qualcosa che avresti preferito evitare Ma dei ricordi piacevoli ce ne sono tantissimi I tramonti, il rumore del mare, quando ci hanno dato la maschera e ho potuto vedere i fondali Quando ho visto le lucciole, quando c'era un serpente, quando abbiamo fatto per la prima volta il fuoco Quando riuscivamo a pescare e avremmo mangiato tutti insieme, quando ci siamo divertiti Momenti sgradevoli sono stati una settimana in cui gli altri compagni di naufragio mi avevano un po' messa da parte E quindi mi sentivo un po' sola I moschitos, terribili La pioggia Saluto tutti gli spettatori ficcanaso e impiccioni di Gossip News Grazie a tutti